Buongiorno, oggi affronteremo un argomento un po' particolare, e cioè quella di capire la terminologia utilizzata nella lingua inglese per la musica. Ho trovato un video, approfitto di questo video perché è un video che spiega, si vuole spiegare in 15 minuti la teoria musicale, quindi la useremo da un lato per individuare i termini utilizzati e dall'altro per fare un po' di ripetizione. La metodologia che userò sarà quella di far parlare il Signore e poi fermarlo ogni tanto e ovviamente tradurre quelli che sono i termini che a noi interessano di più. Quindi iniziamo e vediamo che cosa ci dice. Ok, sta dicendo soltanto che ti spiegheranno nei prossimi 15 minuti la teoria base della musica. Now, there's two halves to music theory, there's how music is written down and it's how it's organized. Ok, questo è interessante. In effetti in due parole ha spiegato un po' tutto. I due ambiti, i due braccia, dice lui, i due ambiti nelle quali è organizzata la musica, è strutturata la musica e come la musica viene scritta, come la musica viene, come la musica è organizzata. Lui, ovviamente noi, ci interesseremo alla parte organizzazione musicale piuttosto che la notazione. la notazione sarebbe la musica scritta, nota, viene da notazione ed è quindi la nota scritta. Come è organizzata la musica invece è come si muovono le varie armonie, melodie fra di loro per capire quella che è poi la struttura musicale, almeno in quella che è l'organizzazione nostra, cioè quella del mondo occidentale. For most people, to start with, how music is organized is far more important. So we're going to... Now, this is a note. Prima cosa. This is a note, ovviamente. Questa è una nota. Quindi il primo termine che scopriamo in inglese è nota, si dice come in italiano, ovviamente la pronuncia un po' diversa, e note, come questa è una nota. Note. Now, as most of you probably know, sound is caused by vibration. The faster vibration, the higher the note, the slower the vibration, the lower the note. Ok. Giusto per ripetere, lui sta dicendo le note sono fatte, i suoni sono fatte da vibrazioni, più le vibrazioni sono veloce, più sono acute, altezza sale, più le vibrazioni sono lente, più sono gravi. So, if you, for example, double the frequency of that note, you get... Allora, doppiando la frequenza di una nota, in questo caso del Do, arriva alla nota successiva, che è il Do successivo, quindi la famosa ottava. If you halve the frequency of that note, you get that one. Now... Ok, dimezzando la frequenza, vai alla nota, alla stessa nota, un'ottava più bassa. Now, the distance between that one and that one, at the same point in the pattern, is called an octave. Ok, andiamo all'altro termine. Octave. Octave è il signore che molto probabilmente è inglese, l'ha pronunciata in maniera abbastanza pulita, normalmente la O viene pronunciata in maniera molto aperta, la A molto giusta, quasi da diventare una I, quindi molto spesso scritta, si capisce, ma nell'ascoltare molto spesso diventa una active, quasi active, per cui sembra quasi attivo, active, scritta con la A, piuttosto che octave. Octave sarebbe la nostra ottava. Ok, and that's because one, two, three, four, five, six, seven, eight. Vabbè, perché ci sono otto note all'interno della scala. Ok, the white, there's eight white notes. If you then take that octave, we then divide it into twelve equal steps to get all the black. Ok, sta parlando adesso dei semitoni, e quindi sta dicendo se dividi l'ottava in dodici parti uguali. And the white notes, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve. Ok? Now, the distance between any one note and the next note up or down is called, in the United States, a half step. Ecco qua, questo è un altro termine. Allora, ha diviso l'ottava in dodici note, tassi bianchi e tassi neri, poi ha detto che la distanza minima, e quindi la distanza fra una nota e quella subito precedente, nero o bianca che sia, o quella subito successiva, nero o bianca che sia, in the United States, quindi negli Stati Uniti, viene chiamato half step, cioè mezzo passo. Questa è una definizione, per specificare Stati Uniti vuol dire che fosse in Inghilterra, anzi sicuramente in Inghilterra, la definizione sarà diversa. That's half step, and in the United Kingdom it's called a semitone. Ok, e quindi the United Kingdom sarebbe il Regno Unito, UK, Regno Unito, United Kingdom si dice invece semitone. Questa è la prima distinzione, se senti dire half step stai nel linguaggio americano, se dici semitone, vuol dire che stai nel linguaggio inglese, che è più vicino al nostro, ovviamente. Ok, e questo è un... No, non lo scrivo. Ok, quindi non lo scrivo, quindi sta dicendo due half step, due mezzi passi, diventano un whole step, whole step scritto W-H-O-L-E, che noi pronunceremmo wall step, ma in effetti poi invece diventa whole step, è un'altra particolarità nella lingua, wall step sarebbe per noi più naturale, visto che è scritto W-H-O, però wall significa pure uro, the wall, per chi conosce Vincloid, e si scrive W-A-L-L. In questo caso, whole step, quindi whole step è il tono, quello che per noi è il tono, or in the United Kingdom, that's a tone, that's a tone. Tone, ok, e il tono, quindi in United Kingdom, quindi in Inghilterra si dice, in tutti i paesi del Regno Unito si dice, TONE. Ok, so, half step, whole step, semitone, tone. Hang on, I can't go on talking about that note and this note, we need to start giving notes some names. Ok, a questo punto sta dicendo, per capire come calcolare e come vedere gli spostamenti fra i noti, bisogna dare i nomi alle note. Allora, facciamo una breve parentesi, che è Anisius Boetius, lui sta dicendo, bisogna dare i nomi alle note e grazie a questo signore, Anisius Boetius, lo chiamo noi, noi lo conosciamo come Severino Boetio, all'italiano, è un antico filosofo, nonché senatore romano, del Cinquecento, non mille cinquecento, benzi cinquecento, cioè lui è vissuto praticamente nel momento, nel periodo in cui è caduta Roma, 877, e lui era all'epoca senatore di Roma, ha continuato ad essere, ed era anche un filosofo, nonché un uomo di cultura. e in quel periodo lui praticamente tentava, o perlomeno era quello che è anche un suo mestiere, quello di diffondere nel pensiero alto medievale, diciamo così, forse nemmeno medievale, siamo proprio nella caduta di Roma, di diffondere quello che è il pensiero antico greco, quello che si riteniva essere il pensiero nella filosofia più importante, in particolare il pensiero di Platone e di Aristotele. E nel pensiero di Platone e Aristotele, ovviamente, c'era l'influenza di quella che era il concetto della musica dell'antica Grecia, che viene da Pitagora, che è venuto cento anni prima di Socrate, Pitagora, che stava a Crotone, questo però perlomeno ha girato mezzo mediterraneo, ma in effetti la sua scuola l'ha fondata a Crotone, dopodiché Socrate che è venuto cento anni dopo l'ha implementato, perlomeno l'hanno l'ha ulteriormente allargato, perché Platone che era allievo di Socrate e Aristotele a sua volta allievo di Platone l'hanno diffusa molto. E la musica, così come la geometria, l'aritmetica e quella che riguardava gli astri, l'astronomia, erano le scelze fondamentali, lui tenda di riprendere quello che è il pensiero musicale greco. E nell'antica Grecia le note, che molto spesso riguardavano la musica cantata, quindi lo spettro musicale non era quello così ampio che conosciamo noi, ma era quello che una voce, lo spettro di una voce che poteva occupare dal più bassa al più acuto, veniva definito con le lettere dell'alfabeto, ovviamente greco, ma lo stesso valeva in India, così come più o meno ancora è adesso. e quindi questo Boetio in effetti non ha fatto altro che riprendere questo, perlomeno ridiffondere questo concetto dando alle note i nomi delle lettere dell'alfabeto, ovviamente in questo caso l'alfabeto latino. Qui diciamo che si colma una sorta di dubbio, nel senso che molti sono portati a pensare che noi avevamo le note Dore, Mi, Fa, Solle e poi in qualche momento gli inglesi e poi gli americani si sono staccati utilizzando le lettere dell'alfabeto, mentre invece noi usiamo il Dore, Mi, Fa, Solle. In effetti non è così. All'epoca di questo signor Boetio, quindi ripete, stiamo parlando del Cinquecento. Tutti utilizzavano questo tipo di nomenclatura, cioè le lettere, o perlomeno lui era uno che provvedeva molto a questo tipo di diffusione. Dopodiché è venuto il signor Guido D'Arezzo nell'anno 1000 che ha cominciato invece a diffondere le note musicali come le conosciamo noi. In effetti aveva prese all'epoca, giusto, piccola parellesi, le note di un canto ispirato a San Giovanni e l'inizio di ogni strofa per far ricordare, dato che l'inizio di ogni strofa manca a farlo a posto corrispondeva a una nota musicale diversa alle note della nostra scala, per poterle rendere più, per poterle far ricordare meglio, aveva associato all'inizio, alla prima sillaba di ogni strofa il nome della nota. in più, ed è questa la rivoluzione di Guido D'Arezzo, è stato il fatto che poi lui l'ha scritta su quello che era un primordiale pentagramma, cioè gli spazi come li conosciamo noi, la diavata era fatta con quattro linee, quindi si chiamava tetragramma, e che con questo sistema riuscì per la prima volta a scrivere in maniera grafica e quindi, come dire, intellegibile, facilmente, facilmente no, per lo meno più chiaramente individuabile l'altezza delle note lette su un segno grafico. Fino ad allora, anche col signor Boezio, così come gli antichi greci, le note venivano date le lettere e poi ci si riferiva allo, come si dice, allo spazio con il quale una voce si riusciva a muovere per poter definire quale era l'altezza delle note. Non c'era un sistema grafico che poi quello, introdotto d'Aguida d'Arezzo che poi gli ha permesso di avere così larga diffusione, in particolare nell'ambiente di quella che era la musica dotta, colta dell'epoca, che era quella che si muoveva nei monasteri, perché poi all'epoca erano i monaci in particolare che diffondivano la musica colta oltre a quel poco di musica popolare, minestrelli, questa roba che andava a iniziare il primo percorso musicale. ok, chiuso la parentesi e andiamo avanti. He thought what a wonderful idea a letter... What a wonderful idea che bell'idea dare le note alle lettere. He thought what a great idea to give these notes names which are letters. So that one is called A. Ecco, questa è la prima. This one is called A. Questa è la lettera A, si pronuncia A in inglese e corrisponde però alla nota LA. Quindi, nella momenchiatura inglese, la prima nota, diciamo, dal punto di vista della sequenza delle lettere è il LA. Lettera A pronuncia EI. Take a wild guess at what that one's called. B B è la seconda lettera quindi, praticamente, stiamo andando con la sequenza della lettera dell'alfabeto qualcuno saprà già la lettera dell'alfabeto A, B, C, D E, F, G sono le note nella musica inglese e quindi anche americana. E stiamo parlando della lettera di una nota SI. Exactly, SI. Ecco qua, già qui nel dirlo e nel capirlo e nel capirlo. Io ho detto nota SI e lui ha detto SI dove però SI è il C inglese perché C ovviamente in inglese si pronuncia SI quindi in effetti SI e DO qua già crea un po' di confusione se qualcuno dice SI noi sindacamente siamo portati a pensare la nota SI in italiano quando invece sta dicendo la lettera C in inglese che corrisponde al DO D ovviamente è il RE D E anche questa crea problemi I perché la lettera in inglese si pronuncia I questa è la normale pronuncia delle lettere in inglese A B C D E F G non è che le note hanno una come si dice una definizione diversa sono le lettere dell'alfabeto in inglese così come quella in italiano e la pronuncia è A B C D E F G quindi I sarebbe la lettera E che corrisponde alla nota MI e quindi quando andiamo I non dobbiamo pensare a I che poi è una nota che non esiste bensì a E che è il MI F G now ok F è il FA che è quello che è più facile da associare F è FA G è SOL quando we get back to A to the octave we call that one A again A B C D E F G A B C D E F G etc all the way up so all these A's all these are B's ok fa vedere che praticamente ci sono una serie di A una serie di B una serie di C quindi una serie di La una serie di Si una serie di Do all these are C's ok ah what was that yes the black notes le note nere what are we going to call those ok start on this one allora parte da questa che è SOL go a half step up vado su e vado su quest'altra what's that called it's called G sharp eccola G sharp SOL diesis quindi il diesis in inglese è sharp sharp what happens if you go down you get G flat se in dieci ovviamente vai mezzo passo sopra ottimi G flat bemolle quindi sharp è il diesis flat è il bemolle questo qui è anche un po' particolare come definizione perché flat normalmente significa piatto lineare quindi istitivamente sei portato a pensare che dire G flat significa G piatto quindi il sol sol lineare quindi sol e invece no flat significa bemolle quindi in effetti togliere questo dubbio tolto questo dubbio G flat e sol bemolle G sharp e sol diesis questo vale per tutta la nota quindi così come lo usiamo diesis e bemolle lo usano sharp e flat you go half a step down you get the flat note half a step up you get the sharp note ah well spotted what happens if we play A and go down half a step qua fa una domanda che cosa succede se premo A quindi La e vado giù di un semitono A flat E flat ovviamente la bemolle ok fine what happens if you play G and go up half a step che cosa succede ah ecco che cosa succede se invece da sol vai sopra di un semitono you get the same note but it's called G sharp la stessa nota però è chiamata sol diesis è il concetto che noi conosciamo dell'alterazione a salire o a scendere qui però noi ci interessa sol diesis la bemolle sono lo stesso tasto so that note can be either G sharp or A flat it's not actually that complicated to get your head around it's like if you wanted to get to North Street and somebody said how'd you get there you'd go oh go down East Street and turn right or you might say ah no go up Church Street and turn left ok vabbè ho fatto un esempio molto semplice per spiegare il concetto sta dicendo se io devo andare in un certo posto qualcuno ti dice vai la strada a destra poi gira a sinistra oppure vai la strada a sinistra poi gira a destra e devo lo stesso posto in effetti lo stesso modo per spiegare il sol die si sta salendo dal solo o il la bemolle scendendo dall'a you're getting to the same place you're just getting there by different roots and it's very similar so half a step up from G to G sharp half a step down from A to A flat and G sharp and A flat G sharp e A flat sentiamo solo questo turn out to be exactly the same note ok ovviamente qua sta spiegando che se una nota è sharp quindi diesis o flat quindi è bemolle dipende anche dalla chiave chi è la chiave chi letteralmente è la chiave pure quella che apre la porta chi è anche la chiave quella che usiamo sul pentagramma chi è la chiave che sarebbe la tonalità chi so we know what an octave is we know how it's divided up and we know how to name notes next question what is a scale and why does it matter scale scale e la scala scale that probably sounds hauntingly familiar to you what are you listening to though when you're hearing that scale what makes that sound like a major scale ok cosa sound like è bello come vediamo non abbiamo quelle che chiamo sonorità cioè che sonorità sound like sarebbe suono come è rappresentato da una scala maggiore the answer is it's the pattern of intervals anche questa è un'altra bella informazione pattern of intervals intervals abbiamo capito che sono gli intervalli pattern è un modello quello che si chiama un modello di intervalli uno schema di intervalli una struttura di intervalli that's all a scale is questo è quello che è una scala in generale if you play starting anywhere on the keyboard interval you start on the bottom and you go whole step whole step half step whole step whole step whole step half step ecco whole step sembra che cominci con h invece wall che pronunceremmo noi whole step whole step questa è la notazione americana del tono whole step half step mezzo tono whole step whole step half step it will sound like a major scale same in UK English if you go tone tone semitone tone 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 semitone it is that's what a major scale is major scale major scala maggiore it's a pattern of intervals pattern of intervals un schema di intervalli una struttura di intervalli start anywhere and it will sound in a different place but it will still be recognizably a major scale ok e questo si genera se vuoi puoi partire da qualunque posto della tastiera tu riconoscerai che questa è una scala maggiore se esegui questa sequenza start for example on G sto andando dal sol quindi ci immaginiamo partando dal sol che troveremo l'unica alterazione in fa diesis whole step whole step half step whole step whole step ah don't panic we can't go to that F because we need to go whole step so we have to go to F sharp and then finish off with a half step there so UK English tone tone semitone tone 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 semitone so in order to play a scale of G major in order to play per poter suonare una scala di sol maggiore devi usare il fa diesis eccola qui allora questa è la segnatura di chiave come chiamano cioè F sharp in questo caso fa diesis che sta nella scala di maggiore è intesa come la segnatura quindi l'alterazione però chi segnata non è l'alterazione in sé è il gruppo di note che identificano le alterazioni all'interno di una scala e quindi se hai due diesis nella scala la key sign tu riesci a do diesis fa diesis non puoi suonare il G major sol maggiore se non usi il fa diesis questo è quello che sono le signature che definiscono quello che hai bisogno in order per poter giocare questa scala questo fatto che devono avere la tazza col tè con il caffè a disposizione in il verano non ho capito perché comunque forse sarà comodo per loro se gli si asciuga la bocca ma è un fatto che ho sempre notato let's go take another one for example start on D qual parla da parte del re for moltissimo whole step whole step to F sharp half step whole step whole step ah another whole step takes us to C sharp so in order to play the scale of D major we have to use an F sharp and a C sharp so we have to use two sharps to play the scale of D major and that means the key signature D major has got two sharps in it F sharp and C sharp simple quando ripete giustamente per fare il re maggiore hai bisogno del do diesis del fa diesis D sharp F sharp e quella è la key signature della scala di re maggiore ok so far so good so far sì good finora tutto bene now you've probably heard of major and minor what is all this ok altri due termini major minor quindi dicono maggiore major minor minore come lo siamo noi scritto quasi uguale quindi abbiamo capito altri due termini maggiore e minore vale per gli accordi vale per gli intervalli e quello che noi abbiamo sempre già definito nelle nostre teorie nelle lezioni di minore major e minor stuff about well they're just different scales and they're just different patterns of intervals schemi di intervalli diversi pattern of intervals e questo punto per introdurre la scala maggiore e la scala minor so we know that a major scale goes whole step whole step half step whole step whole step whole step half step or tone tone semitone tone 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 semitone a minor scale just has a different pattern of intervals a questo punto c'è un pattern diverso di intervalli nella scala minore which gives it its characteristic feeling so starting on a let's go whole step half step whole step whole step whole step half step whole step then we're gonna do whole step half step whole step again whole step half step whole step and then a whole step Ok, questo è interessante come è fatta la costruzione. Praticamente per ricostruirsi la scala minore, piuttosto che fare tono, semitono, tono, tono, semitono, tono, 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 regruppa in gruppi simmetici il tono e il semitono. Quindi fa tono, semitono, tono, tono, semitono, tono, tono. Ed è un altro modo per poter memorizzare e crearsi la... Ok, questo è la scala di minore. Let's do it in UK English, start on A. Ovviamente anche la versione in inglese, quindi tono, semitono, tono, semitono, tono, 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 tono. Tone, semitone, tone, tone, semitone, tono, tono. And if you started playing that sequence, a pattern of intervals, anyone on the keyboard, you get a natural minor. Now you may have noticed we managed to play that whole natural minor scale without using any black notes. Ok, so it has, the A minor, has the same key signature as C major. Ok, praticamente abbiamo scoperto, abbiamo scoperto, che la minore, la relativa minore, ha le stesse key signature, quindi la stessa alterazione, gruppo di alterazioni, che ha la relativa maggiore. Non ha lo stesso twins, la stessa sequenza musicale, nonostante tutte le stesse alterazioni. Non faccio altro che partire da una nota diversa. Non ha lo stesso twins, la stessa sequenza musicale, So far, so good. So far, so good. Ok, so we've done major and minor scales, and we've done all kinds of other stuff, key signatures. Let's just compare a major and a minor scale, because I want to talk about intervals. Adesso compare la scala maggiore, la scala minore, ricomincio a parlare di intervals, are the distance between two notes on the keyboard. Distance between two notes, la distanza fra due note. So from there to there is an interval, from there to there is an interval. So if we play C major scale, ok, if I then play C natural minor, going whole step, half step, whole step, whole step, half step, whole step, whole step, You'll notice, first of all, just concentrate on the first three notes, ok, and the major scale it goes, in the minor scale it goes, So, what are we going to call the interval between that note and that note? Ok, quindi sta facendo il salto dal Do al Mi, quindi un salto di terza, vedremo, e poi quando è la scala di Do maggiore, e poi ha fatto la scala di Do minore, e ha fatto le prime tre note, che ha visto per addorre i mi bemolle. That, that to that is called a major third. Major third, eccola qui. La terza. Third, second, third, fourth, fifth. Allora, i gradi della scala in inglese vengono definiti con gli stessi numeri ordinali inglesi. Primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo in inglese sono definiti come first, primo, second, secondo, third, terzo, poi vedremo se dice anche gli altri termini. Fourth e quarto, fifth e quinto, col TH finale, come fourth, fifth, sixth e sesto, seventh, sempre con la... Se uno conosce i numeri ha anche la sequenza, tranne i primi primi metri. First, second, third, poi four è il numero quattro, four, five, six, seven, questo lo conosciamo tutti, quindi fourth, fifth, sixth, sixth, chiedo scusa, seventh e così via. Con la differenza dell'ottava, che invece ha un altro nome. because if you go up the major scale, one, two, three, three notes, you get to that note. If you go up the minor scale, you get to that note, and the distance between that note and that note is called a minor third, okay? Minor, scritto minor, eh? Sempre il fatto che I in inglese viene pronunciato I. Poi non sembra, perché third viene pronunciato I qua. A major third is made up of... you go up effectively four half steps. Look, you go one, two, three, four, and if you go to a minor third, it's three half steps. Tre half step significa tre semitoni in americano. Two, three. Now, but when we get beyond the third... Oltre la terza. Four and five... Four and five, quindi il quarto e il quinto tasto. The same in both major and minor. And that's why those intervals... That's a fourth. It's called a perfect fourth. Allora, come sappiamo, noi la quarta e la quinta la chiamiamo giusta, già avevamo anticipato, che allora la chiamano perfect. Perfect fourth. Eccola qui la quarta. Four è il numero quattro. TH fa diventare quarto. Perfect fourth. Se lo farà per la quinta, vedremo che la stessa cosa. Perfect fifth. It's the same in both major and minor. And that one is a perfect fifth. Eccola qua. Fifth. Fifth. È l'unica che non è fived. È fifth. Che fa eccezione rispetto alle altre definizioni di numero ordinario in inglese. Perfect fifth. Ovviamente non è né maggiore né minore, l'abbiamo capito, né major e minor. Same in major and minor. And then you get major and minor, sixth and seventh as well. Ovviamente il sixth and seventh sarebbero gli altri gradi, il sesto e il settimo, che sono la loro volta maggiore o minore. So, but that is a minor third. That's a major third. Major third. This is important because the next... Important. Questo è importante perché... The thing we're talking about is... Chords. Chords. Vabbè, come ho passato gli accordi, che faremo mai presto, però più o meno vediamo che cosa ci dice. Accord significa più intervalli messi assieme, giusto per dare una prima nozione. Prima nuova abbiamo parlato di intervalli, quindi abbiamo parlato di distanza fra due note. Quando parliamo di accordo, vuol dire che invece di mettere due tro note, ne mettiamo tre insieme, o addirittura quattro. Tre significa, si chiama triade, quattro in inglese si chiama tetradi, quattro note insieme, che suonano insieme, si chiamano tetradi. E questo, in inglese, viene definito chords, accordo in italiano. The two notes and the chord is normally three or more. So, if we start on the first note of the scale, the root. Tooth è la radice, letteralmente, è la prima nota della scala, la radice, che sarebbe quella che noi chiamiamo fondamentale, o tonica. That's C. Now try play. Si, la C, il Do. Try this at home, if you haven't done it already, the third and the fifth note of the scale. So, one, two, three, four, five. Okay? So, play one, skip one, play one, skip one, play one. Va bene, in questo caso sto dicendo come costruire gli accordi in maniera banale. Prendi tre note, prendi la prima nota, salti una e batti la terza, salti un'altra e batti la quinta. Fatto così, hai fatto gli accordi base, che tutti conosciamo. Do, in questo caso hai fatto Do, Mi, Sol, che è Do maggiore, perché Do, Mi appartengono alla scala maggiore del Do, Sol è lo stesso, anche se è una scala maggiore, se mettessi Do, Mi, Bemolle e Sol avrei Do minore, perché Do, Mi, Bemolle e Mi, Bemolle appartengono alla scala minore di Do. Ve lo spiegherò, questo lo vedremo nelle prossime lezioni. Andiamo avanti. And what you get is a three note chord called a triad. Triad, ecco quello che volevo dire. La triade è l'accordo fatto con tre note. And that triad is known as C major. C major, quindi, chiamano gli accordi come gli intervalli, così come faremo anche noi, cioè Do maggiore, Si major. Because it's the chord formed on C and it's a major chord because the distance between the root and the middle note is a major third. Ok, la distanza tra la prima nota, quindi la root, la nota principale, la fondamentale, la radice e la nota centrale dell'accordo è di una terza maggiore, quindi l'accordo è maggiore. Now if we go up one note, a questo punto sta facendo la stessa operazione con il re, quindi parte dal re, salta uno e suona il fa, salta uno e suona il re il la, quindi re, fa, la. What's the distance between that one and that? Qual è la distanza ovviamente tra il re e il fa? È un intervallo di terza minore. It's not a major third, it's a minor third. Eccola qui, è una terza minore. So that is D minor. E quindi l'accordo è minore. Re, minore. C major, D minor. And if you look, ok, so we're going one, two, three, four semitones or quattro semitones. Half steps up and you get a major third. You build that into a chord and you get a major chord. Start on D. You only go up one, two, three semitones. so you get a minor third is the interval there. So you get a minor chord. So the pattern, in a major scale you can form a triad. Ok, sta spiegando ancora con gli accordi che vuoi formare tante triadi, quindi tanti gruppi di tre facendo il salto uno sì, uno no e a seconda di come si presenta la distanza tra la prima e la terza ottieni l'accordo, sai se l'accordo è maggiore o il minore lasciando inalterata la quinta. Stiamo anticipando un po' quello che dirimo dopo ma male, non fai, nel caso lo stai spiegando. On each degree of the scale. Degree, ecco qua, su ogni grado, degree, grado, così come si usa per la temperatura. So on each, su ogni grado of the scale, della scala. So that's chord one, chord two, chord three, chord four, chord five. Ok. So that's how chord one, chord five, chord six. ok, sta facendo una sequenza di accordi, in questo caso notiamo come si muove il basso per capire la sequenza delle note e degli accordi. chord four. La due e for, la quarta di do, che è il quarto di do, la quarta di do. C major, do, that's G, sol, that's a chord of G major, sol maggiore, do maggiore, sol maggiore. then go up to A minor, which is chord six, because it's the sixth note of the scale. And that's chord four, fourth note of the scale. Che è la quarta. There's a wonderful diagram which brings this all together. C'è un bellissimo diagramma che spiega tutto. This may make your brain explode, but I'm going to do it anyway. Here is a fantastic diagram which explains how all this relates. Questo l'abbiamo visto, questo è the circle of fifths. Il circolo delle quinte. Detto in inglese, C, D, P, E. You'll need to look at it for a bit because it takes a little while to get your head around, but look, right at the top there is, is six. Ok, sta facendo l'esempio della spiegazione di come si muove il circolo delle quinte, quindi salti di 5 in 5 andare avanti o di 5 in 5 andare indietro e fai tutte le associazioni tra le note, le alterazioni e le relative minori. Conosciamo già tutto, ci interessa più che altro sapere come si muove e come funziona con la lingua inglese o americana. C, G, D, A, E, B, F sharp, D flat, A flat, E flat, B flat, F, C e così via. Now, as we know, you can play a C major scale without any black notes, there's no accidentals in it, there's, so Quindi sta dicendo che la scala di Do è senza alterazione, e any black note, senza note nere. There's no sharps or flats. If you go up to the 5th note of the scale, 5th note of the scale, la quinta nota della scala, vai al sol. Ok, you get to G. Now, when we try and play a major scale based on G, as we explained before, we have to use one sharp. If you go up to the 5th note of the scale of G, Allora, sta dicendo quando sali dal G al Re, trovi una sharp, quindi un'alterazione. You end up on D. Now we play a major scale, you have to use both F sharp and C sharp. Ok, mi sta dicendo che partendo voi da D troverai due alterazioni. Every time you go up a 5th, you have to add a sharp. Ogni volta che vai su D5, devi aggiungere un'alterazione, sharp in questo caso, una diesis. To the key signature. And it's just down to that pattern of intervals we were talking about before. So every time you go one tick round to clockwise, clockwise in senso orario, ogni volta che fai un giro in senso orario, so it starts on C with no sharp, goes to G with one sharp, goes to D with two sharp, goes to A with three sharp. parti da C da Do che non ha sharp, che non ha alterazioni, non ha diesis, arrivi a G, parti da G hai un'alterazione, parti da D che è Re hai due alterazioni, parti da La che è La hai tre alterazioni e così via. Now, what about going down? Che cosa succede ad andare giù, andare dietro? if we start on C and go to the left anticlockwise Allora, se partiamo da D, da C, da C, dal Do e in senso anti-orario, anticlockwise, we go down a fifth, we end up on F. Vabbè, a questo punto, tornando indietro il D5, abbiamo visto la guida discendente, C e la guida discendente e F che sarebbe Fa che ha il bemolle in chiave B bemolle che sarebbe B flat chiedeci così. Now, to make a scale of F we go tone, tone, semitone and this time we're gonna call that B flat not A sharp B flat quindi B bemolle So, if you go to the left you're going to the flat side and every time you go one step Allora, quando andiamo giù andiamo nel lato dei bemolle flat side e ogni volta che facciamo un salto di quinta aggiungiamo un bemolle The left you add a flat Add a flat So F major has one flat in it B flat B bemolle a due bemolle which is the next one to the right has two flats in it E flat E flat Mi bemolle che ha tre bemolle has three flats in it Now the closer the two things are in the circle of fifths like this the more closely they are related You can add another circle to the circle of fifths which is In questo punto giustamente puoi inserire un altro cerchio all'interno del cerchio per individuare quali sono le relative minori di ogni scala maggiore che hanno le stesse alterazioni key signature which is all the relative minus so you can see how those relative minus those are the minus scales with the same key signature relative minus minus scale with the same key signature ok penso che ci possiamo fermare qui spero sia stato interessante e proficuo vedremo se la cosa può essere interessante potremo eventualmente andare a scovare altri filmati per poter fare degli approfondimenti un po' per capire anche come la musica viene letta scritta o pronunciata o suonata o cantata in altri contesti vi ringrazio e vi rimando ci rivediamo al prossimo arrivederci